Coronavirus continuano ad aumentare i numeri dei nuovi positivi al virus e dei ricoverati, dati in crescita in tutto il paese e in Puglia, dove si valutano nuove strette. Le ASL potenziano l'organico per evitare il blocco delle attività ordinarie. Il punto nel servizio. La corsa del coronavirus spaventa l'Italia. I numeri registrati nelle ultime ore relativi ai nuovi positivi sono stati più alti mai registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria oggi. Numeri che spingono il governo a fare in fretta per evitare di bloccare le attività degli ospedali e dei dipartimenti di sanità pubblica. La strategia governativa è condensata nell'atto di indirizzo che lunedì prossimo sarà presentato in conferenza Stato-Regioni allargata, sindacati e medici. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha spiegato che con un'ordinanza della protezione civile si creerà un contingente per potenziare le reti sanitarie interne alle ASL e rafforzare le operazioni di tracciamento. Sono 2.000 gli operatori che verranno selezionati con un bando. 1.500 serviranno a effettuare tamponi, test e tracciamento. Gli altri lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire. Anche in Puglia gli ospedali pensano a riorganizzare i reparti e a rafforzare l'organico. Il Policlinico Riuniti di Foggia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per assumere a tempo determinato e per un anno infermieri per fronteggiare l'emergenza. L'azienda non specifica il numero di posti a disposizione perché la ricerca è destinata a professionisti che siano immediatamente disponibili a prendere servizio. Le domande dovranno essere presentate entro martedì prossimo. Poi verrà stilata una graduatoria in base alla data indicata dal candidato per la disponibilità immediata e così a scorrere fino al 15 novembre prossimo. Anche la ASL di Brindisi ha predisposto un concorso per medici infettivologi che porterà all'assunzione di almeno quattro professionisti per il reparto di malattie infettive del Perrino che si aggiungeranno ai sei attualmente in attività. Due nuovi anestesisti rianimatori invece prenderanno servizio tra novembre e dicembre per rafforzare la squadra composta al momento da 26 persone. È previsto anche il reclutamento di 40 infermieri che potenzieranno l'organico nei settori a maggiore impatto drive-in, pronto soccorso e post-covid. La ASL Brindisina prevede inoltre di emanare il bando per assumere su tutto il territorio provinciale i medici delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Tutto per frenare la diffusione del virus che continua a colpire e a far crescere i ricoveri. Ad Andria al momento i positivi sono 287 e sono tanti i focolai attivi. Lo annuncia il sindaco della città del Norbarese Giovanna Bruno in un video postato sui social in cui però chiarisce che non ci sono le condizioni per immaginare una chiusura integrale di attività scuole e piazze. Massima allerta anche in provincia di Taranto che ha registrato ieri il numero più alto di nuovi positivi 24 ore 83. Tra questi c'è anche il contagio di un calciatore del Taranto. La società calcistica Rosso Blu ha sospeso tutte le attività della squadra e chiesto alla Lega Nazionale di Lettanti il rinvio della gara di domenica prossima contro il Casarano. Tra le scuole in cui sono sospese le lezioni in presenza c'è anche la Don Bosco di Grottaglie sempre nel Tarantino dopo la positività al virus riscontrata in un alunno. E' stato chiuso anche l'istituto comprensivo Pietro Giannone di Rodi Garganico dove 14 studenti e 4 docenti sono stati contagiati dal virus. La scuola è stata chiusa per consentire le attività di sanificazione degli ambienti ed è stata avviata la didattica a distanza. Nelle prossime ore saranno effettuati tamponi sia al personale scolastico sia agli altri bambini che frequentano l'istituto. Sono in corso da parte della ASRI Foggiana le indagini epidemiologiche per risalire la catena del contagio. A Foggia ha aumentato di 15 unità rispetto alla scorsa settimana il numero dei pazienti positivi al coronavirus ricoverati nel Policlinico Riuniti. In base ai dati aggiornati a oggi e forniti dall'azienda ospedaliera il numero dei ricoverati è di 91 persone. 48 si trovano in malattie infettive, 32 in pneumologia e 11 in terapia intensiva. Sono 90 invece i contagiati dal coronavirus nella RSA Hotel San Francisco di Strigiano in provincia di Bari. La ASRI ha avviato subito i protocolli di sicurezza e attivato lo screening su operatori sanitari e degenti che sono in tutto 200. Il Dipartimento di Prevenzione sta svolgendo gli accertamenti. Le autorità sanitarie stanno valutando se commissariare o meno la struttura come avvenuto per la residenza Giovanni XXIII di Alberobello dove si sono registrati 71 contagi nei giorni scorsi e su cui indaga la Procura di Bari che intende stabilire come si sia diffuso il contagio nella casa di riposo.